Partiti! Amluka scarta subito dopo la partenza, gira indietro e si auto elimina. E dal gruppo emergono Mary Orpen e City Hunter, seguiti da Al-Yar, poi per Cossier Lark invece Open Dream, che precede Truly Perfect, più dietro Keyboard, ancora più arretrati sia Mosey che Omissis. City Hunter in vantaggio, Al-Yar che emerge in seconda, per via interna in giubba grigia c'è Keyboard che si avvicina. Di fuori Mary Orpen, ancora più a largo solitarie col cap rosso Open Dream, poi ancora più dietro viaggia Truly Perfect. City Hunter in vantaggio, Keyboard che ne segue le mosse da vicino, di fuori prima Al-Yar, ancora più all'esterno, soprattutto Open Dream. Nell'ultimo tratto, City Hunter attaccato da Keyboard, e i due si staccano con City Hunter che è in vantaggio, su Keyboard che prova ancora, City Hunter che non flette, City Hunter che la porta a casa, su Keyboard e Open Dream, poi Al-Yar. Nessuna sorpresa dunque con la vittoria di City Hunter, che colpisce Fabio Branca da un capo all'altro per l'alincolo in sei colori. Signor Biondi al training. Signor Biondi al training.